della libertà e portato qui insieme anche ai cavalli mare e mani e c'è anche mente da parlare in quanto riguarda la storia del cavallino di Montorufoli perché è una razza a limitare la diffusione, l'hanno conosciuta poco e poco conosciuta, è stata presentata qui tantissimi per noi e per la cavalli in tante altre attitudini, ma noi stasera vogliamo essere liberi e quindi la libertà di Federico Morci Cavallo mare e mani Visso ovviamente oggi un tanto del sole, piena libertà di essere, di esprimersi Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! La dinamica di bravo, la dinamica che cambia da cavallo a cavallo, giorno dopo giorno, ogni giorno è diverso, ogni spettacolo è diverso, ogni rapporto è diverso. e l'unica cosa che può fare l'uomo è adattarsi a questo rapporto, ricordiamoci che non sono loro entrare nel nostro mondo, ma siamo noi, a dover chiedere. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!